Cusn e Caltanissette e Riesi non vanno oltre il pari 1-1 nel derby nisseno di seconda categoria Girone G, disputato sabato per la ventitreesima giornata. Un risultato che sta stretto soprattutto ai padroni di casa che speravano nel successo per consolidare la quinta posizione che vale i play-off. Si è fatta più decisa infatti la concorrenza del Petralia Sottana, ora sulle tre lunghezze dal Cusn. Il punto consente invece ai Riesini di non perdere il secondo posto. Gli altri risultati, Alia Petralia Sottana 4-5, Marianopoli Valledolmo 2-3, Master Pro Petralia Soprana 4-0, Muxer Caltavuturo 2-1, Villarosa Acquaviva 5-0. Turno di riposo per il Lercara, in classifica Valledolmo sempre al primo posto con 56 punti. La ventiquattresima giornata vedrà il Cusn sul campo del Petralia Soprana, mentre la Master Pro San Cataldo sarà impegnata a Petralia Sottana. Altro derby per il Riesi contro il Marianopoli. Altro derby per il Riesi contro il Marianopoli.